Santo Padre, venerabili padri, fratelli e sorelle in Cristo, mi è stato chiesto di preparare un aiuto per la meditazione sulla misericordia nella vita quotidiana. Pavel Flarensky, un geniale pensatore cristiano di vita santa, martire, sempre ripeteva che la vita è un tessuto relazionale, che la vita scorre attraverso le relazioni e che nelle relazioni, nella vita relazionale, l'uomo rivela il suo contenuto. E sono due possibilità, secondo lui. L'individuo rivela se stesso, la persona, come sappiamo teologicamente, rivela l'altro. Dentro un volto del cristiano c'è sempre ancora un altro volto. Dentro il cristiano vive la Chiesa, perché partecipiamo al corpo di colui che poteva dire, chi vede me vede il Padre. Dunque è la storia, luogo della conoscenza della persona. Vale questo per l'uomo, perché storia è un mistero delle relazioni, e vale questo per Dio. Dio lo conosciamo nella storia. Nell'Esodo Dio si presenta così. Una viscerale commozione per l'uomo, io provo. E dalle prime pagine della Bibbia abbiamo Dio che si incamina sulle orme dell'uomo. E tutto questo libro è un racconto di questa ricerca. Dio è l'unico che può coprire la distanza che separa l'uomo perduto, peccatore, morto da Dio vivente. L'uomo da solo non può varcare in nessun modo questa distanza, perché significerebbe che deve avercare il peccato e la morte. Non lo può. E questa capacità di Dio di coprire questa distanza e raggiungerci è l'identità di Dio verso di noi e verso la creazione, cioè la misericordia. leggiamo nell'ufficio marunito del sabato santo. Buon pastore, per cercare la tua pecorella ti sei abbassato. Fosti elevato su legno e da lassù hai visto che era diventata polvere. Allora sei disceso presso di lei nel grande Sheol. Ti sei chinato sulla polvere. L'hai chiamata con la tua voce. L'hai risuscitata. L'hai messa sulle tue spalle e l'hai fatta risalire con te in cielo. Questa stessa immagine che anche si trova sul logo del Giubileo, troviamo descritta anche in questo bellissimo inno di Sant'Efremi il Siro. Il pastore di tutto è disceso a cercare Adamo, la peccora che si era perduta. Sulle sue spalle l'ha portato al Zandola. Egli era un'offerta per il padrone del greggio. Benedetta la sua discesa. Tu sei disceso nell'Adde per cercare la tua immagine inabissata. Come un povero e un mortale tu sei disceso e hai scandaliato l'abisso dei morti. La tua misericordia è stata confortata nel vedere Adamo riportato all'uvile. La misericordia è come la comunione. Nel senso stretto la comunione è solo la vita di Dio e la misericordia è in nome solo di Dio. Queste due cose l'uomo non può né inventare né fare. Trane quando viene raggiunto dalla misericordia e comincia a partecipare al dono della vita che è comunione. Allora queste due cose non sono opera nostra. Quando l'uomo si sforza di fare la comunione, confondendola con la comunità per esempio, che è semplicemente un luogo dove si manifesta e realizza la comunione, prima o poi l'uomo si stanca perché la comunione si realizza in modo pasquale. queste due cose noi non possiamo fare, possiamo solo rivelare. E io penso che bisogna stare molto attenti perché con tanto forte antropocentrismo l'individuo che fa tutto si mette a fare anche le opere della misericordia. No, l'uomo diventa luogo della rivelazione della misericordia perché cominci a vivere secondo la vita di Dio, cioè includendo l'altro. L'esistenza di Dio, come dicevano gli antichi padri greci, è nel modo di essere. E qual è il suo modo? Che padre esiste già includendo l'altro, il figlio, eccetera. L'esistenza di Dio è coinvolgente, è includente e quando l'uomo riceve questa vita comincia a vivere così, diventa una rivelazione. Per poter vedere un po' meglio come l'uomo può rivelare la sua realtà, il suo contenuto e qual è il vero contenuto che l'uomo nella storia può rivelare come Chiesa, possiamo rifarci ad alcuni passi biblici ben conosciuti così che non bisogna neanche leggere perché li sentiamo tutti dentro. Per esempio il capitolo 15 di Giovanni, quando dice Cristo io sono la vera vite e il padre mio è vignaiolo, rimanete in me. Per portare frutto bisogna rimanere in Cristo. Prima cosa interessante è che è il padre che è vignaiolo, lui potta. Noi siamo sempre sotto rischio di cominciare a giustare noi stessi da soli. Una volta secondo una idea, una volta su un'altra corrente culturale, ma sempre noi che facciamo su noi stessi. Ma è molto bello? No. Padre potta e padre ci purifica. E noi sappiamo che sono due potature descritte. La prima proprio è quella che taglia i rami, che è delicatissimo perché se uno non sa farla prima o poi uccide il vitigno. Non cresce bene. Ma seconda potatura è ancora più delicata. Si fa quando ormai su rami, su tralci, si intravedono i grappoli e viene un vignaiolo e comincia a tagliare anche alcuni tralci che hanno già i grappoli. Infatti lì Giovanni dice la parola purificare, non potare. Perché? Perché così si porterà più frutto. E solo il vignaiolo, solo il padre sa quale è il frutto vero che deve portare una persona. Perché la storia chiederà come la persona di rivelarsi. E se uno si comincia a giustare da solo e cerca di essere, che è una persona per esempio, molto infocata, forte, energica, e poi comincia a sistemarsi per diventare una persona tranquilla, mite, buona, quasi flemmatico. Ebbene, forse ha rovinato la sua missione perché forse Dio un momento lo chiamerà perché conta una persona forte, energica, decisa. Dio sa qual è il frutto. E per portare più frutto è molto curioso perché vedete il frutto del vitigno non è il grappolo, ma vino. Noi non si può innamorare del grappolo, dell'uva. Bisogna guardare il vino e il vignaiolo sa come tagliare affinché i grappoli che rimangono portano miglior vino e di più. Allora vedete, seconda cosa curiosa, non si può fermare al prima tappa della vita quando uno crea, propone, realizza. Ci vuole il passaggio del torchio, del frantoio, per il mosto e poi per il vino. E la Pasqua non si prepara nessuno da solo. Sono gli altri che ce lo preparano, spesso i più vicini, come per Cristo. I Suoi discepoli sono andati a preparare la Pasqua. Ma l'amore deve maturare in modo pasquale, altrimenti non porta il frutto dell'amore che rimane. Ma c'è ancora una cosa più curiosa, il legno del vitigno. Il profeta Ezechiele nel capitolo 15 dice, si adopera forse quel legno del vitigno per farne un oggetto? Ci si fa forse un piolo per attaccarci qualcosa? No, neanche questo. Ecco, lo si getta sul fuoco a bruciare. Il fuoco ne divora i due capi e anche il centro è bruciacchiato. Potrà essere utile a qualcosa, a qualche lavoro? Mi ricordo ancora da piccolo, mi sono nato nelle Alpi, nelle montagne, dove c'è solo la neve, non cresce niente. E allora la gente vendeva con i paesi più caldi le cose e si diceva sempre i contadini facevano sapone da soli, no? E dicevano da quel paese dove c'era il vitigno non portare il sapone perché mischiano dalle cenere il cenere del vitigno e il sapone sporca, lascia il segno, perché il legno del vitigno non serve neanche bruciato, non serve a nulla, tranne per fare il vino. Quando passa l'acqua attraverso questo legno della vite, solo questo legno ha delle caratteristiche che lascia questo succo che score, che è capace di produrre il grappolo dell'uva, il mosto attraverso il torchio e il vino. È un legno unico che contiene tutto ciò che è necessario per avere il vino. E allora a che cosa Cristo si riferisce con questa vite, con questo legno? È l'umanità. Se l'umanità non viene trasversata dalla vita filiale, della vita divina, finisce tragicamente come ogni essere della creazione. L'uomo è l'uomo solo se è divino umano, se è di Cristo, se è la divina umanità di Cristo. Se attraverso la nostra natura umana non scorre un principio personalizzante, personale, filiale, con una vita che è assorgente nel Padre, finiremo, ci possiamo innalzare in tante opere, ma la tomba è il verme, sarà l'ultima stazione. Invece se passa attraverso di noi questa vita di Dio, allora le cose... l'uomo è capace di portare il frutto che rimane, è capace di avvolgere il suo lavoro nell'amore che rimane in eterno, perché torna al Padre. Perciò vedete, ciò che l'uomo può rivelare è la sua divina umanità in Cristo. Per vedere questo contenuto bello della divina umanità, come Cristo, mandato dal Padre, è come un raggio di sole, dicevano i padri, che passa l'acqua, la natura umana, rendendola filiale divina, si vede molto bello in un altro passo che conosciamo molto bene a memoria quasi tutti, che è Giovanni II, la canna di Galilea. Però lì si vede quale è il rischio, perché si tratta delle nozze. Nozze sono immagine del cantico di cantici, cioè uomo-Dio. Però il personaggio, la persona centrale, la figura centrale, sono sei giare di pietra e vuote. E tutta la tradizione patristica vedeva in queste sei giare la legge decaduta, un legalismo e una religione moralistica, che si è prosciugata e non serve più per la purificazione, perché non c'è niente dentro. E quando Maria dice, non c'hanno più vino, che cosa vuol dire ciò che è vino nei libri sapienziali? Che cosa è? Il senso della vita. Si racide. Cosa è la vita dell'uomo senza vino? L'amore, nel cantico dei cantici, il sapore, il gusto della vita. Allora, cosa si sposano a fare se non c'hanno l'amore? Una religione che finisce in un moralismo legalistico, prosciugato, non serve più. E infatti, come sappiamo nell'inizio del Vangelo di Giovanni, Cristo sostituisce una serie di cose. Qui sostituisce l'Alleanza. Un nuovo rapporto tra uomo e Dio, basato sull'amore, basato sul compimento dell'Alleanza, quando sarà innalzato, spirò e l'umanità prese questo respiro e comincia a vivere dalla vita filiale. Si apre il costato e da questa fessura viene generata l'umanità nuova. È dalla ferita che siamo generati. E allora il terzo giorno, che era ben conosciuto nell'Antico Testamento per Esodo XIX, il giorno in cui Dio ha dato la legge, diventa il terzo giorno della nuova Alleanza, delle risurrezioni di Cristo, di un rapporto fondato nell'amore filiale tra padre e figlio, tra Dio che è padre e noi che in Cristo si apre la via della figliolanza, di diventare veramente figli di Dio. E non con una conquista, ma con un'accoglienza. Chi lo accoglie, gli sarà dato potere di diventare figli di Dio. Non più con uno sforzo, ma con un'accoglienza. Infatti, vedete, questo sistema della religione decaduta in una legge sterile, si vede molto bene in un altro passo, nel Vangelo di Marco, capitolo 10. Troviamo questo ricco giovane che corre verso Cristo e si getta davanti a lui con una domanda esplicita. Ora, noi sappiamo che nel Medio Oriente non si corre. Infatti, nel Vangelo di Marco corrono solo due. Perché si avvicina con dignità, ma si corre quando si è oppressi, quando si è pressati da qualcosa. Tanto è vero che lui si è gettato giù con una domanda. Ma strano, perché era uomo ricco e molto religioso, molto osservante. Allora, vedete, possiamo vedere una specie di decadenza della religione come un insieme di pratiche, dottrine, precetti, comandamenti, esercizi che l'uomo deve fare per attirare la benevolenza di Dio su di sé, per conquistarsi uno Stato, un premio, e se non lo farà, alla fine sarà punito. Ma guardate, sappiamo molto bene che proprio di questo Cristo è venuto a salvarci. Proprio di questo Cristo è venuto a salvarci. E ci sono tanti episodi nel Vangelo. Il più clamoroso è certamente quello di Giovanni X. Quando Cristo scaccia le pecore del Tempio, degli atri del Tempio. Proprio nel capitolo 9 il cieco viene cacciato del Tempio, ma è entrato attraverso la porta che è Cristo in una casa sua vera, dove è libero di uscire e di entrare. E guarda, nel decimo capitolo, Cristo spinge le pecore, nel quarto versetto viene proprio detto che le spinge fuori e certamente sovrappone due immagini. Ovile del villaggio, con aulè, in greco che non è ovile, ma recinto della tenda dell'incontro e poi gli atri del Tempio. li spinge fuori e per questo che si sono arrabbiati. Se no, se lui parlava semplicemente di un ovile non si sarebbero arrabbiati così. Ma si sono arrabbiati tanto che hanno detto che questo deve morire. Perché ha dichiarato qualcosa di falso in questo modo di intendere la religione, cioè l'alleanza, che l'hanno fatto decadere a qualche altra cosa. E addirittura, sappiamo come va, nell'undicesimo capitolo, lui chiama la peccora, l'azzaro, che viene fuori, ma Cristo va dentro la tomba. Per liberarci dalla morte è entrato lui. E anche nel Matteo 11, 28, quando si dice «Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi ristorerò», l'esegesi moderna quasi unanimamente dice che si riferisce a oppressi e appesantiti da un modo di vivere la religione che diventa pesante. Paolo ai Galati, in modo fortissimo, per non dire agitato, dice come è grande pericolo che persino per noi che siamo in Cristo, all'interno di questo spazio libero, questa via aperta e vivente, come dice l'Evrae nel capitolo 10, questa via aperta e vivente al santuario, al trono della grazia e della misericordia, all'interno di questa libertà, di questa apertura, possiamo costruire di nuovo dei modi di fare e di vivere la fede decaduta in una osservanza delle cose, facendo leva su di noi che conquisteremo qualcosa per avere qualche merito. E Paolo si arrabbia in tutti i modi, come sappiamo, la lettera ai Galati. non si può. Il rapporto con Dio viene giustificato gratuitamente. Non possiamo farlo noi. E allora c'è una vera tentazione di cominciare di nuovo a mettere nel centro l'impegno mio, il guadagno, conquista e il merito, per avere poi in cambio qualcosa. Christos Ian Aras ha fatto dei studi molto curiosi come di fatti si sono inaredite intere realtà della Chiesa proprio attraverso questo modo di vivere, di far decadere la fede, che è un'accoglienza di una vita nuova, di una umanità vissuta da una vita che è comunione personale, decadendola in un semplice impegno delle pratiche religiose. Berdiaef avrebbe persino coraggio di dire che nella Chiesa il demonio può tornare solo per la via della religione, altrimenti è subito riconosciuto. Ma entra facendo leva che dobbiamo fare qualcosa. Una religione che è sempre capace di trovare ancora qualcosa che ti manca e devi ancora purificarsi e devi ancora impegnarti. E questo stanca, logora e vediamo quanta gente non ce la fa più. Questa è la grande tentazione di fraintendere e di sbagliare. E allora che cosa rivela una tale persona? Può rivelare anche la sua perfezione, formalmente impeccabile. Però no. Rivelerà sempre se stesso. Li mancherà sempre una cosa fondamentale. Non può rivelare la vita come comunione, come inclusione dell'altro, come il volto di uno che ti include, perché non ce l'ha e ciò che non hai non puoi rivelare. Bisogna accogliere, accoglienza. Alexander Schmemann, sulla stessa pista come Jan Ras, fa vedere come è accaduta una specie di istituzionalizzazione religiosa della fede e della Chiesa lungo i secoli di questa convivenza con l'impero. E infatti c'è proprio in Vaticano, nelle stanze di Raffaello, una fresco di lauretti che testimonia come ci siamo compresi come religione che ha sostituito una religione pagana. Questo affresco testimonia proprio questo. Ma questo è un errore tragico. Cristianesimo non può essere inteso come un sostituto di una religione pagana. Abbiamo abbattuto un Dio e abbiamo messo Cristo. No, no. Mi dispiace. perché nessuna religione e nessuna legge intesa in questo modo può fare una costituzione dell'uomo nuovo. E non si tratta di aggiustare un po' uomo, ma di farlo rinascere, di farlo risorgere, di farlo nuovo, di farlo filiale. E per essere filiale qualcuno ti deve generare. Non c'è verso. La nostra fede è un'accoglienza di una vita. E questo è il compito della Chiesa. Come dice Paolo Aleffesini, manifestare di quale grazia, di quale bontà siamo stati destinatari. Di far vedere al mondo cosa Dio ha fatto di noi. Cosa Dio fa quando scorre attraverso l'umanità. E vedete, siccome ritiro il giubileo della curia, in qualche modo, non la curia romana, ogni curia rischia certamente questa tentazione di acquisire un carattere un po' parastatale, paraimperiale, come sappiamo nei tempi passati. ed è una tentazione tremenda perché questo mette nel cuore la funzione, la struttura, l'istituzione, l'individuo. L'individuo che è in funzione di. Ma l'individuo non può rivelare altro che se stesso. Perciò si può aprire una porta alla tentazione di importare tutte le patologie del mondo proprio all'interno di noi. E questo sarebbe molto grave perché questo è proprio lo scandalo che noi possiamo fare davanti al mondo di far vedere che viviamo cristianesimo come una realtà individuale. No. Sì, abbiamo secoli di spiritualità che è messa nel cuore di che cosa? La perfezione dell'individuo. Tu entri nel seminario subito si comincia la perfezione di te stesso e dappertutto. Vabbè, ma questo meno male è finito. Però non sarà così facile congedarsi di questo. Berdiaev direbbe il demonio della perfezione individuale è la rovina della ecclesialità, del corpo, della comunione. come dice Schmemann, il cristianesimo non può promettere a una persona che arriva a una perfezione ideale, ma gli può permettere la vita eterna in comunione del corpo di Cristo. E vorrei concludere con un grande maestro che il mio padre spirituale, padre Spidlich, cardinal Spidlich, mi ha tanto fatto leggere anni fa, Vladimir Soloviov. Soloviov, che secondo Balthasar è il più grande pensatore del secondo millennio, diceva che la perfezione della Chiesa è nella organizzazione. Provate a pensare. Per noi questo significa subito mettere le commissioni in atto. No, no, no. Solo che dice la perfezione della Chiesa è nella organizzazione. Cioè che la Chiesa può portare nel mondo una trasfigurazione della società perché fa e organizza la vita a modo della sinergia trinitaria, alla manifestazione della divina umanità di Cristo, preparando la nuova venuta di Cristo, sprigionando l'uomo nella Chiesa da una dinamica che è all'inizio necessaria ma poi deve essere superata. Quale? Peccato, redenzione. Questa è la prima tappa. Ma poi è la tappa della pneuma, dello Spirito Santo, della creatività, di sprigionare l'umanità che diventa teofanica, che rivela l'amore di Dio, che rivela questo modo di essere includente, che include l'altro e lo coinvolge. E questo io penso se oggi in questa società così frantumata, se qualche cosa noi vogliamo suggerire alle istituzioni civili del mondo, sarebbe bello se potessimo questo. Un modo di strutturarsi, di governare, di dirigere, di gestire che è comunionale, che è includente, che include e che è una manifestazione di una realtà più profonda. affinché suscitiamo l'appetito nel mondo. Noi siamo chiamati a suscitare la voglia e l'appetito per una vita così, che il mondo vedendoci dirà ma che bello. Dietro una Chiesa brava non si incamminerà mai nessuno, ci faranno un applauso e basta, ma dietro una Chiesa bella che dentro di sé, dentro i suoi gesti, sguardi, parole, fa emergere un altro, il Figlio e ancora di più il Padre, perché siamo mossi da quello Spirito Santo che è la vita come comunione. Allora vedete che bello? L'uomo diventa luogo, luogo della vita come comunione e come misericordia. L'uomo come luogo della Chiesa. l'uomo come luogo della ecclesialità. Come è bello quando senti qualcuno che ha avuto che fare con qualsiasi curia e dice sai, ho trovato delle persone libere, libere da se stessi, vivono da offerta, disponibili, generosi, che aprono che bello e quanti si sono e questi bisogna far emergere e tutto cambierà. Ecco, questo è ciò che volevo dire come un aiuto per una meditazione affinché, come abbiamo detto all'inizio, si comincia a coprire la distanza tra noi e il nostro uomo contemporaneo ferito come noi, dolente come noi, provato come noi. Più che saremo provati come tutti gli uomini, più saremo misericordiosi perché questo è il sacerdozio di Cristo. È stato provato in tutto per essere un sacerdote misericordioso e così coinvolgiamo le persone in un desiderio di vita nuova. Grazie. Grazie.